Ciao e bentornato su Impara Da Vinci Resolve. Oggi parlerò di un argomento che in realtà avrei dovuto affrontare molto prima all'inizio dei tutorial dedicate alla color correction. Parleremo di color management e vedremo quanto è importante settare il color management da Vinci Resolve prima di iniziare qualsiasi operazione di color correction. Ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti al canale e sulla campanella a destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Quindi il color management all'interno di Resolve. Oggi parliamo in maniera introduttiva di un argomento che spesso lascia molti dubbi specialmente su chi sta cominciando ad approcciarsi alla color correction. Per spiegare che cos'è il color management e in particolare il color management di Da Vinci Resolve facciamo un passo indietro. La prima cosa da fare ancora prima di mettersi a lavorare sulla correzione primaria è quella di gestire quelli che sono gli spazi colore. Facciamo un esempio banale ma che capita a tutti. Ad esempio prendiamo un matrimonialista che sta girando con tre operatori con tre camere diverse totalmente diverse tra loro magari una che mi gira con un profilo S-Log di una Mirrorless Sony un'altra gira con la GH5 di Panasonic quindi con un profilo V-Log un altro magari ha una Reflex e che quindi gira con un profilo standard. Il primo problema che ha ed è un problema non da poco è di matchare tra loro i colori e la luminosità delle singole camere spesso sono profondamente diversi l'uno dall'altro quindi quali sono i modi per poter procedere perché questa cosa è la prima cosa da fare in assoluto fare il matching dei profili delle varie camere presenti è il primo passo. Ci sono tre modi c'è quello più manuale tra virgolette che è prendere le tre camere quindi le clip delle tre camere e andare a fare tutto manualmente direttamente guardando il monitor e andando a fare le mie correzioni utilizzando le primarie le secondarie e quello che è necessario. Una volta che le ho più o meno matchate vado a chiaramente a incollare le mie regolazioni su tutte le clip facendo parte della stessa camera. Il problema grosso è che è molto facile non riuscire nell'intento cioè io posso più o meno avvicinarmi ma non riuscirò a ottenere quasi mai un risultato perfetto facendolo solo ad occhio. L'altro sistema è bene io ho girato con dei profili specifici per ogni camera mi vado nel sito del produttore della mia camera e mi vado a scaricare le latta di conversione e vado ad applicare una latta che mi converte un profilo colore che ho utilizzato in camera verso un profilo colore di uscita che generalmente ad esempio è un 709 se utilizzo un monitor hd. Questo sicuramente è un metodo più veloce e più preciso sicuramente rispetto a farlo a mano ma comunque non è sufficientemente preciso perché ogni latta di conversione genera dei risultati che sono diversi quindi sarà necessario comunque andare ad adattare manualmente il matching. Quindi se io non voglio usare il color management scelgo o le latte di conversione o fare tutto il matching a mano. Resolve però ti propone un terzo sistema che si chiama appunto color management e nel caso di DaVinci Resolve viene chiamato Resolve Color Management, RCM se vogliamo usare un acronimo. Che cosa fa questo sistema? È in grado di fissare tre spazi differenti a seconda del punto del flusso di lavoro in cui sono. L'output color space e riguarda il device di uscita cioè dove io sto guardando il mio video quindi vado a settare il color space in funzione dell'uscita. Poi ho la timeline color space che riguarda il lavoro che sto facendo in timeline quindi tutte le regolazioni fatte direttamente sulla timeline andranno a lavorare su quello spazio di lavoro specifico. Generalmente si usa il rec 709 e io quindi lavorerò in rec 709 per tutte le regolazioni che farò in timeline indipendentemente dal device di uscita che andrò a modificare appunto nell'output color space. Poi e questa è la cosa veramente interessante è l'input color space cioè io qui vado a definire qual è lo spazio colore su cui lavora la camera. Lo spazio colore per chiarire sinteticamente il concetto è la mappatura che fa la camera sui colori e sulla luminosità e quindi i risultati in uscita saranno differenti a seconda della tipologia appunto della camera e del suo profilo. Quindi se io so con che profilo ho girato una determinata scena ecco che posso far fare direttamente al color management la conversione ma vediamo come procedere. Allora adesso io mi guardo un attimo questa timeline che l'ho costruita con cinque clip. Tre di queste clip la prima, la seconda e la quinta sono state girate da una stessa camera in particolare una Blackmagic in profilo film quindi questa, questa e l'ultima. La terza clip è stata girata con un profilo V-log con una Panasonic GH5 quindi completamente un'altra camera e vedete che la resa è completamente diversa e se devo fare tutto manualmente già questo diventa molto complicato. Ancora più complicata è questa clip che invece è stata girata da una reflex Canon quindi con profilo standard Rec.709. Fare il matching manualmente di queste diventa un problema quindi un'alternativa potrebbe essere prendo le latte di conversione e mi riporto a un Rec.709 ma adesso facciamo tutto in color management. Vado su file, apro project settings e vado ad attivare il color management quindi vado sulla tab color management a livello di progetto. Allora la color science che è la prima scelta che devo fare è come lavora sul colore Resolve. Di base lavora in DaVinci YRGB. Io devo passare adesso in YRGB color management. Qui attivo il color management su tutto il mio progetto e vedete come vi ho detto prima si apre la possibilità di scegliere i tre punti di color space all'interno del flusso di lavoro. L'output color space. Scegliamo quello del nostro monitor. Generalmente è un Rec.709 quindi vado a prendere Rec.709 gamma 2.4 anche qui Rec.709 gamma 2.4 e l'input color space. Vado a scegliere il profilo della mia camera. Io ho scelto già Blackmagic Design Filma e uso questo perché riguarda generalmente le clip che utilizzo maggiormente nella mia timeline. In questo caso la prima, la seconda e la quinta. Quindi faccio il mio color management sulla base di questo profilo. Do Save e guardiamo che succede. Allora cambiano un po' di cose. Innanzitutto attivo il waveform sugli scopes. Quindi attivo gli scopes e vado su waveform, forma d'onda. Allora sono sulla prima clip. Vedete questa si è chiaramente accesa. Prima era un profilo log. Adesso si accende. Si accende anche la seconda e se vado sulla quinta si accende anche questa. Cominciamo a esserci. Questa conversione però non è perfetta. Cioè io ho portato il mio profilo log a un Rec.709 però ho qualche problema. Perché se vado a vedere sto perdendo dei dettagli sulle luci. Sto bruciando un po' troppo le luci. Questo succede ed è una cosa normale quando io lavoro con delle camere che hanno una gamma dinamica piuttosto ampia come ad esempio questa Blackmagic e andandole a riportare su uno spazio colore come il Rec.709 nel quale la gamma è più ristretta è molto facile andare fuori scala. Allora la cosa da fare in questi casi perché mi succede qui ma mi succede anche seppur in piccola parte anche sulla prima clip e sulla seconda è ritornare su Project Settings e andare ad attivare la Timeline Output Tone Mapping. Questo settaggio che adesso è disattivato va a rimappare la luminosità della mia immagine in funzione dei color space di uscita. Quindi ad esempio adesso io vado a attivare il Luminance Mapping. Lui ti chiede a quanti nits lavora il tuo monitor. Lui è settato a 100 perché solitamente i monitor lavorano a 100 nits e 100 nits vuol dire che è il limite massimo di luminosità che è in grado di rappresentare il tuo monitor. Quindi oltre a quei 100 nits lui non può andare quindi cercherà di adattare la luminosità a quel valore. Lascio 100 e faccio Save. Vedete che non è che cambia poi moltissimo quindi probabilmente dovrò cercare di forzare un po' i nits all'interno della Project Settings. Cioè invece di lasciarlo a 100 io lo vado a forzare e lo porto ad esempio a 300 in modo tale da dare più spazio sulla parte altra delle luci. Faccio Save e vedete che adesso tutto rientra. Mi viene abbassata la luminosità e qua non brucio nulla. Stessa cosa sulla prima clip e stessa cosa sulla seconda clip. Vado a vedere come si comporta ora a livello di colore quindi attivo il vetroscopio e vedo che comunque con la saturazione ci siamo non ci sono di problemi di andare oltre al valore massimo gestito dal mio spazio colore Rec.709. Per ricordarti la saturazione qui viene letta con più si allontana dal centro con quanta più saturazione avrò sull'immagine. Qui siamo comunque saturazioni contenute e quindi riesco a gestire tranquillamente utilizzando il settaggio standard della mia conversione. Il problema è adesso andare a vedere le altre clip perché ad esempio questa clip qui che è quella girata in vlog è stata convertita con un color space di ingresso sbagliato perché qui sto utilizzando il color space definito a livello di progetto cioè quello di Blackmagic. Quindi devo andare a cambiare l'input color space solo di questa clip. Ritorno un attimo su waveform, attivo il media pool, vado a prendere la mia clip, faccio tasto destro e vado a cliccare su input color space e adesso mi vado a cercare il color space di questa ripresa. Qui stiamo parlando come ti ho detto prima di Panasonic quindi vado a prendere una vlog di Panasonic. Lo attivo e adesso vedete che tutto ritorna abbastanza nella normalità. Qui non perdo dettagli. Vado a vedere la saturazione. Anche qui ci siamo non ho comportamenti strani e lo vedo anche da schermo. Diciamo che adesso la conversione in Rec.709 vedete funziona sia sulla clip in V-log sia su quelle su Blackmagic. Adesso vado a sistemare anche questa che è evidentemente sbagliata perché partivo già con un profilo molto carico poi convertendolo da log di Blackmagic chiaramente il profilo esplode. Vado anche adesso sulla clip nel media pool, faccio tasto destro, input color space e questo con ogni probabilità è un Rec.709 quindi vado a cliccare su Rec.709 ed ecco che l'immagine adesso è corretta e riportata a un profilo giusto. Vado a vedere anche qui la forma d'onda, se ci sono dei comportamenti strani direi di no e quindi tutto è perfettamente bilanciato. Quindi il matching l'ho fatto. Adesso quello che devo fare è procedere con la mia color correction. Bene, se hai delle domande in merito a come si attiva l'RCM cioè il color management di Resolve e perché andrebbe attivato ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial all'interno di Impara Da Vinci Resolve.